Io muoio tra cent'anni, non mi ammazza più nessuno adesso. Signora, noi capiamo? No, non capite, nessuno può capire. Non mi ammazza davvero nessuno adesso. Io vivo cent'anni ancora. Non so perché lo dico e perché lo penso. Forse per dichiarare guerra al destino dopo che me l'ha dichiarata lui a me. Parlo semplicemente a me stessa, ai miei figli, a Bovo. Ora che tu non ci sei più, io ci sarò sempre. Una cosa del genere. Spero che lui mi possa sentire mentre se ne va, mentre l'orizzonte del tempo infinito lo avvolge nel suo nulla. Arriveranno i miei fratelli, arriveranno le persone più care e allora ci abbracceremo. E là lo faremo a lungo, ma adesso devo prendere confidenza con tutto il resto. Ossia la cosa più lontana che c'è da un abbraccio d'amore. La cosa più lontana dalla felicità, dalla vita e da me. La morte di Bovo. Devo familiarizzare con la morte dell'uomo che amo. Come si fa a rispondere a una richiesta del genere? Che cosa c'è di strano se ho un bicchiere di vino? E non penso più a te. Ti aspetto e sei già sparito. Ti aspetto e mi manca il respiro. Ti aspetto, ma dove sei finito? A volte vorrei dirti che ti amo, ma poi non serve a niente, e poi non sento niente. E se non starò male, è perché tutto muore. Un biciclino più veloce. E se non starò male, è perché tutto muore. E se non starò male, è perché tutto muore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.